Sarà il Palacossiga di Contrada Marchitello a Gela ad ospitare domenica prossima la fase regionale 3 contro 3 di Join the Game. Un appuntamento fortemente voluto dalle società gestistiche presenti sul territorio e che vedrà la partecipazione di numerosi atleti. L'inizio delle gare è previsto per le 9. Domenica prossima, il giorno 13, ci sarà un altro incontro, cioè la finale regionale di Join the Game. È la prima volta che viene disputata a Gela, ci saranno 52 squadre che rappresenteranno tutte le società vincente le fasi provinciali, più le secondi dal quale provincia e in qualche altra anche le terze. Gela è il centro dell'attività sportiva di Palacanestro siciliana. Dottor Bernardo, come si svilupperà la giornata di domenica prossima? Ci saranno questi incontri per le categorie Under 13 e Under 14. I vincitori andranno a fare poi attraverso varie fasi successivi le finali nazionali di Jesolo. Quindi capite l'attenzione che la federazione regionale e nazionale nutrono nei confronti di questo territorio, che è sempre all'avanguardia per quanto riguarda il settore giovanile e lo sviluppo dei settori giovanili. Stiamo lavorando bene, sia dal punto di vista tecnico che proprio dal punto di vista organizzativo. Speriamo che sia una grandissima giornata di sport come è stata anche quella precedente della passata settimana. Noi siamo pronti, l'organizzazione non deluderà sicuramente i vertici della federazione che in questa giornata saranno qui. Antonio Romano, dov'era perduto prosceni importanti? Ci riferiamo alla Palacanestro. È chiaro che il basket a Gela riparte dai più piccini. È da qualche anno che purtroppo a Gela manca una squadra di serie superiore. Quando se il basket a Gela è scomparso dalla vetrina, le altre società cercano di lottare per stare a galla. Per disputare i campionati a certi livelli ci vogliono i soldini. Non ci sono più sponsor, le amministrazioni comunali, provinciali e regionali sono scomparse. Quindi tutto quello che viene fatto viene fatto con sacrifici personali da parte degli operatori del campo. Comunque nonostante che manchino queste squadre grosse, squadre senior, c'è un'intensa attività giovanile che in tutte le società, basca di scuola, studentesca, l'idea al Gela e anche anche altre in sezione della società che lavorano, stiamo cercando di avere buoni frutti. E chissà domani ricominciare un'attività a certi livelli.